Oggi un corso, un corso d'aggiornamento ma importantissimo perché si sottolinea sempre più la tematica principale che è l'odontoiatria e l'odontoiatra al servizio delle famiglie. Bene, ha detto bene. Questo è l'undicesimo corso che organizziamo come Commissione Albo Odontoiatri di Cadanzaro, dell'Ordine dei Medici di Cadanzaro. È denominato appunto gli odontoiatri al servizio delle famiglie. Questa denominazione già undici anni fa era utile per far vedere come gli odontoiatri nell'ambito della nostra collettività recitano un ruolo sociale che è quello appunto di curare non solo il cavorale dei nostri cittadini, dei nostri pazienti ma di prendersi cura della salute complessiva dei pazienti. In che modo l'odontoiatra si prende cura della salute complessiva del paziente e quanto importante le cure odontoiatriche anche nel corso di una vita, nel corso della salute totale di un paziente? Certo, ha detto bene. Nell'immaginario collettivo ormai la figura dell'odontoiatra era vista come il professionista che si prende cura degli elementi dentari e delle gengive, dei tessuti di supporto degli elementi dentari. Oggi invece l'odontoiatra è un professionista attraverso le diverse patologie sistemiche che affrontiamo, a cui ci approcciamo nei percorsi diagnostici terapeutici. Il ruolo del dentista è anche centrale per approcciarsi a patologie sistemiche quali per esempio quelle che andremo ad affrontare in questo convegno, i disturbi del sonno, i pazienti in età evolutiva respiratori orali, e i pazienti che hanno una non corretta occlusione e quindi che presentano bruxismo. Quindi pazienti mettendo in correlazione diabete e patologie gengivali. Quindi il dentista non più visto, ripeto, come il professionista che si occupa solo di alcune situazioni, ma che si prende cura ovviamente, come diceva lei, della salute complessiva a 360 gradi. Tanti giovani presenti. Tanti giovani, sì. Come ho detto oggi in sala, tutta la nostra azione politica è rivolta a loro. Evidentemente tutte le situazioni che andiamo a creare per fare in modo che i giovani che rappresentano il nostro futuro possano, terminato il loro, oggi per la maggior parte sono anche studenti, terminato il loro percorso di studi universitari, possano trovare tutte le condizioni per potersi inserire nel mondo del lavoro. E noi come ordine, proprio per dare futuro, quindi anche per rispondere a quelle che sono le accuse che molte volte riceviamo di comportarci da lobby, invece ci comportiamo come un ordine moderno che non pensa alla situazione attuale, ma pensa al futuro della professione. Grazie a tutti.